Un saluto a tutti i ragazzi e tutti gli studenti, complimenti per questi risultati, per questa volontà di stare dentro le realtà più innovative che si è creativi. È un ringraziamento agli insegnanti e ai genitori che hanno permesso a questi ragazzi che avvicinassero questa esperienza. Io penso che gli eventi sempre legati alle situazioni giovanili e ai problemi che ci sono oggi, l'unica strada a avere, se può percorrere questa, è quella di usare quelle tecnologie e gli aspetti innovativi, la tecnologia digitale, per avere nuove mestiere, nuove carriere, per avere la possibilità di creare nuove imprese. E il fatto che gli ragazzi fin giovanissimi siano in qualche modo applicati a entrare dentro questa realtà, a diventare in qualche modo un fatto familiare, è proprio decisiva per avere i migliori risultati. E noi sappiamo di dover competere a livello internazionale con tutte quelle che possono essere un po' di persone, diversità, realtà formative, insomma, quando mai spinte e capaci di creare nuove professioni di innovazione. Quindi dobbiamo essere pronti a entrare in questa realtà. Quindi, per noi, questa è la propria vanguardia. Io ringrazio la professoressa di comunità, c'è la propria vanguardia. Il Roma Generale si riunisce di nuovo qui in Capitolio per celebrare non solo l'eccellenza, la generosità, la solidarietà e la creatività, ma anche l'energia e la determinazione necessarie a rinnovare la società. Siamo qui perché siamo preoccupati, ma anche risolutamente decisi, a migliorare il mondo, e specialmente per le generazioni future che erediteranno quello costruito da noi adulti oggi. Soffriamo quello che io definisco essere un grande spostamento dell'asse globale della ricchezza. Fino a 1989, 3 miliardi di individui erano arrivati della storia, non partecipavano al mercato, non erano produttori. Oggi questi 3 miliardi di individui legittimamente, sottolineo la parola legittimamente, rivendicano il loro ruolo nella società globale e il loro ruolo nell'economia. E questo pone un problema evidentemente di ridistribuzione di governo delle risorse. Questa, se vogliamo, è la grande sfida globale. Oggi vi vedo una straordinaria possibilità. Siete nati in una generazione digitale, il che significa che tra qualche parte dei vostri geni, i politici, nascono e crescono con una capacità che noi sognavamo. E questa è una capacità di tutti i nostri paesi, il nostro paese è una capacità scelta. Grazie. 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 Grazie a tutti